Ciao a tutti, questo è un corso dedicato ai pennelli, diciamo che si svolgerà in tre lezioni. La prima si occuperà di pennelli di sedia di maiale. Spesso vengo interpellato da molte persone che dipingono perché non hanno ancora chiaro l'importanza dell'uso corretto e la tipologia del pennello giusto da usare per arrivare a dare l'effetto desiderato. Infatti come diceva Michelangelo la scelta giusta del pennello è essenziale e determinante. Infatti il maestro se li preparava personalmente. Come vi farò vedere anche io poi nelle lezioni successive. Chiaramente l'importanza dei pennelli dipende dal tipo di colore, se denso o diluito, per tipo di supporto, se tela, tavola, carta, per il tipo di assorbimento che hanno questi tipo di supporti. Quindi bisogna scegliere il pennello adatto per avere l'effetto appunto desiderato. Ora passeremo a farvi vedere la forma e la tipologia dei pennelli in modo molto veloce, tanto per avere un'idea generale. Come vedete abbiamo molti tipi di pennelli di forma e tipologia. Abbiamo pennelli molto rigidi come quelli di maiale o anche sintetici ce ne sono di molto rigidi. Poi abbiamo appunto setole naturali, pello di bue, martora, di baio molto morbidi, molto morbidi. Poi abbiamo setole lunghe per fare molto fini e per tenere più acqua o più colore. E setole invece corte. Vedete? Molto corte. tondo, vari formati, a punta, con punte molto fili, a punta, a lingua di gatto, a ventaglio, piatti e obliqui tagliati in questo modo. e tagliati, tagliati per degli effetti particolari. Vedremo anche in questo videocorso, soprattutto nelle lezioni successive, l'uso con le tecniche pettoriche che si hanno con questi pennelli, con l'acquarello, con la tempera, con l'acrilico. Poi una cosa molto importante è la pulizia dei pennelli a cui io ci tengo moltissimo perché è un arnese molto importante e se l'arnese è tenuto bene chiaramente darà degli effetti giusti. Se il pennello è sport non potremmo fare quello che abbiamo in mente. Poi vi farò vedere anche dei pennelli speciali, ad esempio i pennelli vecchi, consumati, che normalmente si buttano e invece possono servire a fare degli effetti molto particolari. Oppure quelli tagliati a mano. Ok? Allora nella parte prima di questo corso sui pennelli parlerò di pennelli di setola di maiale, piatti, tondi, a lingua di gatto, il pennello tondo svizzero, o a ventaglio, o tagliati, eccetera, eccetera. Le caratteristiche di questi pennelli sono economici, molto economici, in rapporto a altri tipi di pennelli, ad esempio ai pennelli di martora. La loro rigidità, questo è un altro pro, che dà la possibilità di stendere, sfregare, sfumare e battere il colore, sia su carta, su tela e su tavola. Sono forti e di lunga durata, se lavati e tenuti con cura. Questo è molto importante, poi vedremo questo particolare. Poi abbiamo le possibilità di avere delle misure molto grandi. Si possono usare pennelli da pittore, muratore, per stendere appunto grandi stesure di colore. Le caratteristiche contro, invece, è purtroppo poca precisione nel tratto, raramente hanno una punta precisa e non adatti a produrre linee sottili, a parte in certi casi in cui la setola è stata tagliata e lavorata in modo particolare. Non adatti per la pittura ad acquerello, ad esempio, a parte in certi casi in cui si può fare delle tamponature, battiture, spugnature, tipo. L'importante è non sfregare sulla carta, troppo forte, perché può provocare di sbriciolamenti della stessa, soprattutto se la carta è molto bagnata. Ora vi farò vedere le varie tipologie dei pennelli di setola naturale di maiale. Ce ne sono di scuri, di maiale scuro, che sono di qualità superiore, e di quelli chiari. Allora, caratteristica tipica dei pennelli di setola di maiale, come dicevo prima, la loro rigidità, vedete? E la tipologia è varia. Cioè, abbiamo pennelli piatti, abbiamo pennelli tondi, abbiamo pennelli, che poi vi farò vedere, questi consumati e tagliati, qui abbiamo pennelli di vario genere, chiaramente per vari altri tipi di stesure, ad esempio quelli a ventaglio. Chiaramente ci sono anche di pelo o di setola di martora o di bue o sintetici, però in questo caso bisogna distinguere la differenza fra questo tipo di pennello e gli altri tipi, appunto, fra i sintetici o di pello naturale di altri animali. Il pelo di maiale si distingue in due tipi, si distingue subito perché è bianco, è chiaro, ma ci sono anche pennelli di setola nera. Questa setola nera è di qualità chiaramente superiore. Normalmente si usano questi di setola bianca perché sono anche meno costosi. Anche qui abbiamo manico lungo e manico corto, dipende poi dall'uso che se ne deve fare. Chiaramente per fare cose molto vicine e dettagliate vanno bene questi col manico corto, mentre per cose che si possono fare anche a una certa distanza vanno bene anche questi qua col manico lungo. Poi dipende dalla vostra tecnica che usate in quel momento. Poi di questi pennelli, vedete, ce ne sono di mille tipi. Come vi facevo vedere prima, appunto, ci sono le pennellesse, che sono pennelli enormi, che vanno benissimo per stendere il colore in grandi campiture. Quindi è il pennello ovale svizzero, oppure pennelli piatti di questo genere qua, che vanno bene per stendere il colore in certe superfici, oppure questi tutti un po' strani, un po' particolari, che si trovano, che vanno bene per punzecchiare e poi vi farò vedere anche con l'acquerello o con altre tecniche, che tipo di effetti che si possono fare. Poi abbiamo questi pennelli tondi, ad esempio questo qua è un pennello che io ho tenuto bene e lavato, mi è durato, è a circa 40 anni. Quindi vedete, è ancora un pennello buono. Questa parte in fondo si tende un po' a indurire, perché il colore a lungo andare va a indurire il pennello. Però anche i pennelli vecchi, induriti e di un certo tipo vanno molto bene. Ad esempio questi tagliati non sempre sono tagliati, ma sono proprio consumati. Quindi vanno benissimo per tirare linee particolari e sfumare molto bene nei contorni il colore. Poi abbiamo pennelli sempre tagliati di questo genere qua, che trovate già in negozio. Abbiamo pennelli di questo genere qua, che vanno bene per battere grandi superfici di colore, stendere il colore. Hanno sempre, ricordo, questa rigidità che permette di tirare molto bene il colore, che poi vedremo in qualche esempio, vi farò vedere. Oppure questi classici pennelli da termosifon, che vanno bene per entrare, però vanno benissimo anche questi, perché ha un anico molto lungo, e quindi anche questi vanno bene per dipingere. Tutti vanno bene a dipingere. Vedete, ancora piatti e tagliati. Ora vi farò vedere come usare il colore ad olio con questo tipo di pennelli. Lo faremo su un po' di tela e su della tavola. Allora, iniziamo a fare un primo esperimento con dei colori ad olio. In questo caso sto usando colori d'olio ad acqua, ma non importa, perché sono praticamente uguali. Prendiamo ad esempio del blu e prendo un pennello, il seto è di maiale, vedete, che sia praticamente un pennello tondo, medio. Intanto sono tutti simili, poi, come tipo, anche se uso un piatto, vedrete, non c'è nessuna differenza. In questo caso proviamo sulla tela. Vedete, anche se lo do molto denso il colore, lo posso stendere molto bene, perché questo tipo di pennello mi permette di tirarlo molto bene. Chiaramente, quando io scarico il pennello, in questo caso, posso prendere uno straccio e scaricarlo, vedete, scaricarlo, posso lavorare anche in velatura secca o in battitura. Chiaramente, ho la possibilità di diluirlo o con l'olio, vedete, in questo caso ho l'olio, o l'oglietto, che è un'altra sostanza che si ricava mettendo assieme trementina e olio, e la trementina. Su questo ne parleremo in modo particolare quando faremo il corso sul colore. Intanto vi faccio vedere, adesso diluendo un po', vedete, diventa molto acquarellato, che si faccia pure con l'olio, con la trementina, si acquarella molto. Chiaramente, con l'olio asciuga più lentamente, con la trementina, invece, tende a asciugare più velocemente. Vedete, lo scarico, posso anche batterlo fuori o in una tavola per scaricarlo, o sullo straccio, e posso, chiaramente, vedete, fare delle verdature secche, come si dice, molto leggere. Chiaramente, se vado a prendere un'altra pasta, in questo caso il giallo, e lo metto, adesso già era sporco un po' il pennello, vedete, lo mescolo molto bene, perché posso, veramente, grattare il colore. Vedete? Anche questo, se io pulisco, riesco, a fare verdature secche. Chiaramente, se vado a bagnare con l'olio, o la trementina, o l'olietto, vado a diluirlo come un acquarello. Questa tecnica qua, permette benissimo, per fare sfumature, sfumature, sfumature di tutti i tipi. La stessa cosa, si può usare, sulla tavola. Quindi, se io prendo un colore, sempre il blu, lo metto sulla tavola, e in questo caso, sulla tavola, scivola molto di più. Qui, devo fare, una piccola, variazione. diciamo, questi pennelli, molto più rigidi, e tagliati, e poi vi spiegherò, come fare a tagliarli, sono adattissimi, alla tavola, perché nella tavola, io posso battere, il colore, in questo modo qua, vedete? e ridurlo proprio finissimo. Vedete? Posso addirittura, proprio prenderne su, anche pochissimo, e fare una velatura, molto delicata. Vedete? sempre con un colore, chiaramente non diluito. Lo stesso vale, per qualsiasi altro, tipo di colore, io posso andare, e batterlo, in questo modo qua. Ripeto, questa tecnica, del pennello piatto, è molto duro, è molto adatta, alla tavola. Stessa cosa, se prendo, ad esempio, un pennello piatto, vedete? Poi ce ne sono, di tutte le misure, adesso siamo in un piccolo spazio, quindi vi faccio vedere, cose, pennelli piccoli, ma in realtà, si comportano, tutti lo stesso modo. Vedi? Adesso prendo, questo colore, fresco, non diluito, da tubetto, e lo metto, in questo modo qua. Chiaramente, se io lo batto, vedete? Più poi, il pennello, si scarica, più avrò un effetto, di sfumatura. Chiaramente, in questo caso, posso unire anche, altri colori. Posso scaricarlo, nello straccio, e portarlo, sempre più delicato. Vedete? Questo è molto, diventa molto magra, la pittura, si dice, in questo caso, molto, molto magra. Cioè, non ha spessore. Vedete? Questo pennello, permette di fare questo, con un altro tipo, di pennello, molto morbido, è un po' più difficile. Altra cosa, che si può fare, in questo caso, è sfregare. Vedete? Sfregare il colore. Questa è un'altra tecnica, che non è battuta, ma è sfregata. Quindi, questo sfregamento, si può fare, tendenzialmente, con pennelli, di questo genere qua. quindi, come avevo già detto prima, con questi tipi di pennello, a parte qualcuno, tagliato, in modo particolare, che ha una punta, un po' più fina, ma non riesco, con questi, non riesco, a fare segni, molto sottili, cioè, e precisi, come con, altri tipi di pennello. Diciamo, che se diluisco, il colore, in qualche modo, posso fare, un po' di meglio, ma sempre, se ho il pennello, vedete, tagliato in questo modo. Ma, tendenzialmente, il pennello di maiale, non ha, una punta precisa, e questo, può essere molto vantaggioso, appunto, quando si deve, sfumare, tirare, sfregare, e battere il colore. E quindi, creare anche quella tecnica, che, appunto, si chiama velatura. Una volta asciutto questo colore, posso andare, con un altro tipo di colore, e sovrapporlo, con questa tecnica qua, a velatura. Premetto una cosa, prima ho parlato, di colori ad olio, ad acqua. I colori ad olio, ad acqua, a differenza dei colori ad olio, tradizionali, avendo un pigmento, mescolato, con un olio idrosolubile, appunto, quelli ad acqua, mi dà la possibilità, oltre che usare, l'olio di lino, e la trementina, chiaramente, solo l'acqua. Quindi, se io prendo, questi colori ad olio, e li mescolo, con l'acqua, l'effetto, di, acquarellatura, e di, è molto simile, all'effetto, che, come quando usate, l'olio, o la trementina, però, io, continuo a dire, che, è meglio usare, sempre l'olio, e la trementina, e solo per lavarli, poi, che va bene, acqua e sapone, ma, in questo caso, diciamo, ragioniamo, con un tipo di, prodotto, che, è ottimo, per usarlo, in qualsiasi modo, quindi, possiamo usare l'acqua, possiamo usare l'olio. Ora, vi farò vedere, come avere gli aspetti speciali, con la tempera acrilico, e anche per l'acquerello, si possono usare, ma, come dicevo prima, con molta attenzione. Altra cosa, che devo parlarvi, che è molto importante, sono i colori acrilici, e la tempera, anche la tempera, e i colori acrilici, chiaramente, si usano, solo con acqua. Adesso, in questo caso qua, ne verso un pochino, in questo modo qua, questa è molto liquida, e anche l'acrilico. Allora, la differenza tra la tempera e l'acrilico, è che l'acrilico, asciuga molto in fretta, perché è una resina acrilica, mentre la tempera, asciuga in fretta, però non, una volta asciuta, si può riprendere con l'acqua. Invece, con l'acrilico, una volta asciutto, diventa una plastica, e non si muove più. Quindi, attenzione, i pennelli, quando sono sporchi, di questo tipo di colore, soprattutto l'acrilico, di lavarli, o metterli in acqua, immediatamente. Mai lasciare poi, il pennello in questa posizione qua. Ve lo ricorderò anche, nelle prossime lezioni, perché il pennello si rovina. Si lava, nell'acqua, e si pulisce, nello straccio, eventualmente. Allora, prendendo un altro tipo di pennello, sempre un piatto, ad esempio, io posso andare a prendere la tempera, e anche questa, la posso dare, in questo caso è molto liquida, vedete? Stessa cosa, se prendo l'acrilico, l'acrilico in questo caso, è un po' più denso, e, a differenza dell'olio, l'acrilico, tende ad asciugare, molto in fretta, quindi, abbiamo poca possibilità, di sfumare, se non con l'acqua. Quindi, bisogna essere molto veloci, comunque questi pennelli, si adattano a qualsiasi tipo di discorso, e vi faccio vedere, con l'acquerello, cosa si può fare. Prima cosa da fare, è appunto, stemperare, del colore, del colore acquerello, metterlo su, supporto, e poi decidere la quantità di colore di usare. Allora, il pennello strano che vi dicevo prima, vedete? Questo è tutto, che sembra mangiato. Va benissimo, chiaramente, per fare degli effetti, molto particolari, sulla carta, da punzecchiature, passaggi vari, con altre tinte, chiaramente, se si fa sul bagnato, avrà un effetto, se si fa sull'asciutto, ne avremo un altro. Quindi, se noi bagniamo la carta, leggermente, con l'acqua, avremo un altro tipo di effetto, di apertura, in questo modo. Quindi, essendo molto, con setole molto fine, non gratta molto, ma attenzione, quello che avevo detto prima, con questo tipo di pennelli, si può, fare danno, sulla carta, perché grattando, in questo modo qua, vedete? Tende a sbriciolare, tende a fare delle bricioline, e quindi, non è una buona cosa. Quindi, finché fare queste punzicchiature, cose molto delicate, in superficie, va bene. Chiaramente, l'acquerello, va bene, anche usato, sulla tavola, in questo modo, oppure, sulla tela, però, diciamo che, la carta, è, ideale, questo tipo di effetto, o cose più larghe, dipende sempre, quanto è carico il pennello, quindi, questi pennelli, si possono usare, anche per fare, questo tipo di effetti. altro pennello interessante, che si può usare, anche con l'acquerello, è il pennello a ventaglio. Il pennello a ventaglio, una volta, usato su carta, dà un effetto simile, a quello che vi avevo fatto vedere prima, quindi, si può fare questi tipi di effettistica, chiaramente, più carico è, più il colore viene deciso, vedete, si possono fare filetti, se è molto diluito, filetti, eccetera, quindi, è possibile usarlo, in questo modo qua. Chiaramente, il pennello a ventaglio, è adatto all'acrilico, su carta, acquerello, su tela, e anche, chiaramente, sulla tavola, vedete, in questo modo, si può usare anche di lato, per fare effetto alberi, eccetera, e chiaramente, con l'olio, con l'olio, che diventa, si può usare, molto pastoso, su tavola, sulla carta, mi raccomando, anche sulla carta, potete farlo tranquillamente, e chiaramente, anche sulla tela, vedete, quindi, questo pennello, va benissimo, chiaramente, se diluito, sempre, anche con l'olio, con l'acrilico, si possono fare, delle strisciate, delle strisciate, molto lunghe, più lunghe, e diluire il colore, e qualsiasiate lunghe, a questo punto, vi faccio vedere, qualche mio lavoro, in cui, io ho usato, molto, questo tipo di pennello, soprattutto, nel mio passato, li usavo, tantissimo, appunto, per fatto, che erano economici, molto rigidi, e a me piaceva, appunto, avere un tipo, di pennello, forte, che mi permetteva, anche, di battere, o tirare il colore, anche, se molto denso. Ad esempio, in questi tre lavori, realizzati, su Faesite, nel 1980, nel primo, ho usato, olio e acrilico, nel secondo, acquerello, e acrilico, come per il terzo, sempre, acquerello, e acrilico, e ho usato, questi tipi di pennelli, per realizzarli. Anche, in questi lavori, fatti su tela, di grandi dimensioni, ho realizzato, la pittura, con i pennelli, che vi ho fatto vedere prima, chiaramente, con una tecnica, leggermente più sfumata, e più raffinata. Anche, in questi dipinti, realizzati su tela, e tavola, ho usato, sempre, i pennelli, in gran parte, di maiale. Naturalmente, ho usato, pennelli, molto più piccoli, e con tipo di sfumatura, sempre, più raffinata. Nei prossimi lavori, che stiamo vedendo adesso, ho realizzato, le sfumature, e gli incarnati, usando, gran parte, pennelli, di maiale, e, chiaramente, tagliati, o solamente consumati, all'usura del tempo, per creare sfumature, molto morbide. anche in questo dipinto, il fondo, è stato realizzato, con pennelli rigidi, di maiale. A questo punto, vi faccio vedere, come tagliare, un pennello, in questo modo. Ci vuole, un taglierina, la carta vetrata, la carta vetrata, e dello scotch. si gira, si gira, lo scotch, attorno, alla, alla parte, che si vuole tagliare, e poi, un'altaglierina, si taglia, in questo modo. fatto questo lavoro, si passa, la carta vetrata, per arrotondare, la punta. Si può, poi, levare, lo scotch, e, continuare il lavoro, girando, il pennello, in questo modo, in modo, da arrotondare, eventualmente. qualche punto. Et voilà. Adesso appunto, partiamo con una serie di lavori, e vi spiego appunto, questo tipo di tecnica, che è, molto interessante. In questi dipinti, di arte gestuale, o action painting, ho usato questo tipo di pennelli, per fare queste strisciate, e anche per il lancio del colore, quindi, ci vogliono pennelli molto grandi, per prendere molta tinta, e per fare appunto, questi segni molto duri. Qui invece, ho usato un pennello a ventaglio, per fare la vegetazione, e le foglie. altra cosa importantissima, che avevo già accennato prima, è il fatto di come lavare correttamente i pennelli, sia con l'olio tradizionale, oppure olio ad acqua, tendenzialmente con gli altri tipi di colori, basta solo acqua, mentre con l'olio tradizionale, come vi farò vedere fra poco, si deve anche usare l'acqua ragia. Bene, siamo arrivati al punto della pulitura del pennello. In questo caso, che ho del colore ad olio, la cosa più importante, dovete ricordare, assolutamente, e scaricare questo pennello, prima di lavarlo o pulirlo, di scaricarlo bene su uno straccio, o su della carta, in modo da tirar via la parte più grossolana, quella maggiore di colore. Nel caso del colore ad olio tradizionale, bisogna passarlo dentro nell'acqua ragia, e dare una prima lavata, in questo modo qua. Altrimenti si può lasciare, in questo porta pennelli, chiaramente il pennello non deve toccare mai il fondo del porta pennello, e lasciarlo qui in quanto tempo si vuole, e lui si scarica. Ma se noi usiamo acrilico, acquerello, tempera, e olio ad acqua, questa operazione non la facciamo, e passiamo direttamente a lavarli, come vi farò vedere fra poco, con acqua e sapone. Eccoci qua. Adesso siamo praticamente, nella fase di pulitura del pennello, solo con acqua e sapone. La prima cosa, ricordatevi, ve lo ripeto, cercate di scaricare il pennello, bene, bene, prima di fare questa operazione. la prima cosa da fare è fare andare giù l'acqua, questo vale per i colori sempre ad acqua, quindi ad olio ad acqua, acrilici, eccetera, eccetera. quindi si passa in questo modo qua, in modo da scaricare il più possibile, da scaricare il più possibile il colore, dopo averlo passato sullo straccio, e in questo caso qua, adesso noi prendiamo il nostro sapone di Marsiglia, e giriamo il nostro pennello in questo modo qua. Non avete paura di farli male, dovete fargli un bel shampoo, uno shampoo fatto bene, vedete, quando a un certo punto non ho più colore che esce da questa situazione, il pennello, vedete, resta bianco, il pennello è a posto, si risciacqua bene, e il pennello è a posto. Anche per questo tipo di pennello, il discorso è sempre lo stesso, scaricare bene il pennello il più possibile, su lo straccio, lavare bene, chiaramente, se c'è l'acrilico e lo lasciate asciugare, qua è stato usato anche acrilico, vedete, se non viene lavato immediatamente, il pericolo è che poi non si riesca più a pulire, quindi dovete essere veloci, mentre per l'olio potete anche aspettare tranquillamente, anche ore, e anche il giorno dopo, si può lavare sempre bene lo stesso, vedete, si ripassa in questo modo qua, si passa bene, in questo modo qua, e si lava bene fino in fondo, quando vedete che non viene più fuori niente, che è il colore, benissimo, anche questo pennello, è a posto, importantissimo che il pennello sia asciutto, importantissimo è che il pennello sia pulito, come dicevo anche prima, perché nel momento che dovrete usarlo, vi potrebbe alterare i colori, quindi prendete un bianco, avete usato un rosso, se non l'avete lavato bene, oltre che a rovinare il pennello, che lo dovete buttarlo via, anche per una questione economica, avete un arnese che poi vi può lasciare giù tinte di colore, che avete usato precedentemente, e che non va bene, quindi appunto come dicevo, avete un bianco, usate un bianco, avete usato un rosso, se non l'avete lavato bene, vi viene fuori un rosa, e non capite perché è rosa, perché il pennello è sporco, a questo punto, diciamo che è arrivato il momento, di farmi delle domande, e spero almeno, di avervi dato dei dati importanti, per continuare il vostro lavoro, con questo tipo di pennello.